17 anni dopo l'ultimo intervento è partita la riqualificazione del traforo Umberto I che collega via nazionale con via del Tritone. Le lavorazioni finanziate con 250.000 euro del bilancio capitolino vengono effettuate dal Dipartimento Csimo di Roma Capitale e riguardano l'intera infrastruttura viaria. Verrà rifatta anche la pavimentazione utilizzando un asfalto particolare che riduce il rumore prodotto dal passaggio dei veicoli all'interno della galleria. Il cantiere è in programma sino al prossimo 21 dicembre. Dal lunedì al venerdì la galleria viene chiusa in orario notturno dalle 22 alle 5.30. Per quel che riguarda il trasporto pubblico è deviata la linea 71 che salta temporaneamente tre fermate. Aggiornamenti su romamobilita.it